Santo Maso diceva, fino a quando non vedo, non credo. È un detto che di solito si pensa al momento dell'acquisto di un prodotto, che sia di uso alimentare o di utilità. Decido di acquistare un'auto usata e mi chiedo, ma il chilometraggio sarà originale o sarà stato manomesso? Decido di acquistare un hamburger e mi chiedo, che tipo di pane mangerò? Che tipo di carne ci sarà nel macinato? La risposta che ho deciso di dare a tutte queste domande è racchiusa in una parola. Trasparenza. La mia azienda offre trasparenza. Ordini un baby burger e te lo vedi nascere sotto ai tuoi occhi. Perché ho deciso non solo di cucinarlo a vista, ma di fare a vista anche tutta la produzione del pane e la macinatura della carne. Faccio crowdfunding perché ho deciso di condividere la nascita del baby burger con tutti voi. Perché alla fine il mio prodotto è anche il vostro prodotto. Baby burger. Perché gli hamburger non sono tutti uguali. Non sono tutti uguali.